E buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti ragazzi, al vostro pazzo dell'horror e vi voglio augurare a tutti quanti un buon anno, un buon anno, che sia un anno migliore per tutti e grazie che ci avete alleviato con questo anno, che ci avete guardato, che ci avete sostenuti grazie che ci state facendo crescere tutti i giorni, vi auguro ancora da parte mia e da parte dei miei collaboratori un buon anno a tutti e divertitevi, una cosa voglio dire ragazzi, questa sera è la notte di San Silvestro ragazzi se volete divertirvi non sparate botti, divertitevi in famiglia, giocare alle carte, tombola, tutte le cose non buttate, non sparate le bombe, sono molto pericolose quelle cose, molto molto pericolose e poi per una letta di gioco non ne vale la pena rovinarsi la vita, cioè cercare di divertirvi questa sera giustamente salutiamo questo 2022 nel migliore dei modi, giocando, bevendo qualche bottiglia di sfumante in più però... non... non... spade e botti pesanti, ecc... vi lascio a tutti quanti ora ancora tanti auguri dal vostro mitico e unico pazzo dell'horror che vi vuole tanto bene, auguri ancora ragazzi, ancora un buon anno a tutti e spero che il 2023 sia migliore ma sicuramente sarà migliore di questo ciao a tutti dal pazzo, ciao a tutti dal canale Nuovissimo Milifilm e anche dal canale Cinema e Arte torneremo al più presto possibile con video buoni e video meno buoni, video alla grande, video fatti benissimo con delle opere d'arte, abbiamo tante cose in giro che stiamo mettendo il 2023 sarà... gennaio sarà di fuoco, subito con l'uomo dica sarà di fuoco vi auguro a tutti ancora un buon anno ragazzi, mi inchino e grazie ancora del sostenimento, grazie, auguri